Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7 e 11 minuti, giovedì 30 maggio, già Giove, benvenuti al giovedì, il penultimo giorno della settimana, quanto vi piace il giovedì, ormai dai il giovedì è già weekend quasi ormai, almeno nella mia testa, il weekend è già il mercoledì, ma possiamo guardare, perché il mercoledì c'è domani giovedì, e invece no, comunque c'è ancora due giorni, ma potete passarli bene e partire bene la mattina insieme a noi, perché siamo qui sempre su Crystal Radio, questa è la radio che state ascoltando, queste sono le frequenze FM 96.2 che state sintonizzando, questo è il Dub Plus che vi state portando in giro in tutta la Lombardia, grazie al nostro consorzio Mediadab e grazie appunto a Crystal Radio che vi diffonde la voce di Milano ovunque voi siate, Milano si sente e cerchiamo anche di sentire voi al 3317853555 il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, raccontarci, mandarci foto, tutto quello che volete, noi siamo qui insieme a voi per iniziare al meglio la giornata, insomma le giornate, la partenza, come è che il viaggio inizia con il primo passo, con la babbalina, e le giornate sono uguali, cioè il primo passo, quello che tirate giù dal letto, quello che fate per entrare in bagno, quello che fate per andare a accendere la macchina del caffè, quello che fate per salire sul tram la mattina per andare al lavoro o in università, quello è il primo passo, lo facciamo insieme tutte le mattine sperando che sia un Beautiful Day. Gli U2 con Beautiful Day, benvenuti ancora, benvenuti a tutti, a coloro che si sono appena alzati, a coloro che la nostra sigla li ha tirati giù dal letto e a coloro che invece sono già appunto fuori dalla strada, fuori in strada, fuori nella città, in coda magari, sappiamo che insomma c'è chi sta muovendosi in questo momento nella città e c'è un po' di traffico come al solito. Dopo comunque, fra pochissimi secondi, ci collegheremo anche con Luce Verde per saperne di più, grazie anche a chi ci sta scrivendo via Whatsapp al 3317853555. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Crystal, a Fabio e alla redazione, buongiorno Alberto, giornata uggiosa in attesa del weekend, eh sì, giornata uggiosa, un po' come cantava Lucio Battisti, perché oggi è una giornata alternata, vi verrebbe da dire. Questa potrebbe essere la sua definizione, anche se stanno aggiornando un po' il meteo strada facendo, no? Quella invece era Baglioni strada facendo. Comunque, la strada, perché come vi dico spesso, non è così più semplice, cioè non è mai stato facile fare le previsioni del tempo, ma sempre di più è sempre più complicato, soprattutto in situazioni molto ravvicinate e in situazioni molto urbanizzate come le città, che hanno ormai dei microclimi, cioè rischiamo di dover fare fra qualche anno le previsioni del tempo per allora. A Baggio c'è questo tempo, Grattosoglio quest'altro, Lambrate invece c'è il sole, cioè è così, no? La media, la media del pollo, ci dice che oggi a Milano dovrebbe fra poco iniziare a piovere, a piovere anche abbastanza consistentemente, come si dice, consistentemente, in maniera forte, va bene? Ok? Sono quelle parole che non usi mai, quindi non sai come usarle. Comunque, in maniera consistente, ecco, ce l'ho fatta, e per almeno un quarto d'ora. Poi dovrebbe smettere di nuovo, per poi riattaccare oggi pomeriggio in maniera invece più temporalesca, ok? Queste sono... ho capito perché non faccio un meteorologo, cioè a questo istante mentre vi leggevo le previsioni del metto ho capito perché non sono un meteorologo. Comunque, sta di fatto così, ma non è finita lì, perché poi appunto pomeriggio, presto, temporali, ma poi ritorna il sereno, nubi... cioè, sereno no, nubi sparse, ma niente pioggia. Fino a questa sera, quando invece ritorneranno i temporali, per poi lasciare spazio nella notte alla pioggia, ok? Quindi poi arriveremo a un venerdì bagnato, va bene? Questo è... comunque, va bene. Ecco, vedete che invece dovevo fare il meteorologo, mi dà la conferma Adriana, che ci scrive in questo momento al 3317853555, che ci dice, buongiorno Fabio, verissimo, io abito a Baggio e lavoro ad Assago, due meteo completamente diversi per dieci minuti in quattro d'ora di strada. Eh, vedete? È così, sono i microclimi, sono l'effetto canyoning, ci hanno detto l'anno scorso che si chiama così, quando nella città avvengono soprattutto nelle vie, e quindi il rischio è che veramente a Baggio parti e c'è la neve, arrivi ad Assago e c'è lo scirocco, no, non lo so, nel senso, può piovere da una parte e non può piovere dall'altra. È sempre stato un po' così, cioè i temporali soprattutto sono molto localizzati, però è sempre più difficile ormai comprendere, dipende da che parte vai della città, e quindi se andate verso Lambrate portatevi la tutta da sci, se andate verso Assago, costume da bagno, Baggio potete mettere l'infradito, va bene, queste sono le idee che potrebbero fare un nuovo sito di meteorologia, adesso parlo con Cristal Radio e vediamo un po' cosa mi dicono. Continuano a cadere invece, oltre alle piogge, anche i nostri Whatsapp, cioè continuano ad arrivare copiosi Whatsapp. Buongiorno a tutti da quella di Bergamo, ovviamente io ieri lavo i capelli, ti faccio belli soffici, profumati e oggi piove, ecco. Sto già immaginando la situazione dei mezzi oggi, quindi Bergamo sotto l'acqua. La situazione del traffico, quindi, quale sarà con da una parte la pioggia e dall'altra non ancora la pioggia, lo sentiamo con luce verde. Robin Schultz, sun goes down, anche se in questo momento sun goes up, o meglio sun where is. Questo potrebbe essere il titolo di questa mattina perché è tutto nuvolo sopra la città, ci arrivano ovviamente ancora messaggi che comunque c'è poco da fare, vi parlo di grandi mostre, vi parlo di urbanistica, rendering, piste ciclabili, quello che volete, due Whatsapp. Vi parlo di meteo, mi state invadendo di Whatsapp. È proprio vero che c'era ragione mio nonno quando tutte le sere si metteva davanti a TV dire, silenzio che c'è il meteo, che devo sentire che tempo fa oggi in Italia, in Italia e in Svizzera, mi diceva. E diceva perché no, non devi partire, devi andare a fare parte, no. E quindi diceva ma allora perché? Però insomma è stato così, cioè sempre ad ascoltare il meteo tutti i giorni e effettivamente è un tema che a voi vi riprende. Infatti ci scrive anche Nello che dice non vorrei sembrare banale, ma poi Nello, piccolo postulato, tu non sei banale, tu sei la voce della coscienza di gruppo, capito? Cioè tu sei quello che ha il coraggio di dire quello che tutti pensiamo, cioè ma potrebbe essere che non c'è più la mezza stagione? Forse è quello, forse è veramente effettivamente quello il problema, non ci sono più le mezze stagioni, capite? Mamma mia, non ci sono più le mezze stagioni, dopodiché stamattina ho un'allergia, sentite ogni tanto il respiro così perché veramente questa mattina mi sta ammazzando. Ma com'è possibile che quando c'è brutto tempo mi dà più fastidio di quando c'è bel tempo? Non dovrebbe essere il contrario, non lo so. Comunque sta di fatto che, metto ve l'ho detto, i Whatsapp li avete letti, poi parliamo anche dell'incendio che c'è stato a Grattosoglio ieri, avete visto la colonna di Fumo Tutti, dopo andiamo a leggere i giornali, parliamo anche dei concerti che ci saranno a San Siro e parliamo anche del concerto di ieri sera alla Maura, il primo che ha aperto la stagione, dopodiché dovrà esserci Bruce Springsteen nei prossimi due giorni in cui quello non c'è, quindi un po' di pausa, ma poi inizia una carrellata dei concerti fino al 14 di luglio. Ma adesso piccola pausa. Fluo San Giovanni, è qui sempre a Good Morning Milano Crystal Radio, dove arrivano i vostri Whatsapp, ma ve lo dico, se continuate a mandarmi Whatsapp così ve lo blocco sto Whatsapp, v'ho buco, v'ho buco sto Whatsapp. Allora, Nello prima giustamente si chiedeva, non è che magari il meteo così è un po' ballerino perché non ci sono più le mezze stagioni? Bene, arriva Ambrogio a cui io ho buco sto Whatsapp, se mi manda un Whatsapp così con scritto, non ci sono più le mezze stagioni, ma ci sono le mezze maniche. Ciao dai Lisa, stacca tutto che andiamo a casa, basta, entro in sciopero dopo questo Whatsapp, va bene? Così che, va bene, no, ringrazio anche Ambrogio per il suo Whatsapp, va bene? Vi voglio sempre tanto bene, dopo questi Whatsapp, non lo so se ancora continuerà a volervi bene, ma non lo avrete. Per favore, mandatemi Whatsapp di un certo livello, che dobbiamo alzare qua, se no, veramente, però no, è così, è la comicità dei giovani d'oggi, così va bene, sì, Ambrogio giovane d'oggi, va bene. Comunque no, andiamo avanti, un saluto ad Ambrogio, che ci sono chiesto al 33178-53555, dove potete scrivere tutti voi, scrivendoci, mandandoci foto, mandandoci quello che volete. Tra parentesi, grazie ad Alberto, che mi manda una lista, che avevo già anch'io, ma almeno ce l'ho anche sul computer di qua, così almeno non sbaglio, la lista non aggiornatissima, appunto lo dice lui stesso, ma è molto interessante da vedere sui concerti che ci saranno quest'estate, appunto, nel quartiere dello sport, anzi io direi nel quartiere ippico di San Siro, che sono praticamente queste tre venue diverse, che sono appunto la Maura, dove ieri sera hanno suonato i Metallica, lo stadio di San Siro, dove appunto suoneranno, ad esempio, non so, il 7 giugno iniziano i concetti di Vasco, per intenderci, e l'ippodromo, invece, SNAI, che è quello classico, diciamo, l'ippodromo di Piazzale Lotto, quello che va da Lotto a San Siro, ok, va bene, dove ci saranno, ad esempio, non so, mi viene in mente Tedua, che suona lì, così, adesso, al volo vi sto così con la lista, comunque, grazie, dopo li leggiamo bene, capiamo bene tutto, continuano ad arrivare i messaggi, mamma mia, usano, scrivetevi tra di voi, allora, perché mi scrive Nello, adesso, ok, in un whatsapp, che mi dice, alla mezza stagione, preferisco la mezza pensione, benissimo, e mi scrive anche, salutami Ambrogio, ma ce l'avete il vostro numero, chiamatevi, non usatemi, per questo, va bene, scusate, non posso agitarmi la mattina, bisogna essere zen, positivi, perché la giornata ha da iniziare. Abbiamo parlato velocemente prima, ma adesso entriamo un po' più nel dettaglio, di quello che è successo, l'avete visto praticamente tutti, ieri sera, questa colonna di fumo pazzesca, che si è alzata dalla zona sud di Milano, si pensava fosse dalle parti di Assago, no, aspetta, è più in là, è San Giuliano, no, aspetta, è più in su, alla fine era Grattosoglio, era via Chiesa Rossa, sono intervenuti appunto i Vigili del Fuoco, che tra prendesi ieri erano qua con noi, che quindi continuiamo a salutare, e allora è andato così appunto, alle 21.33 arriva il primo messaggio appunto dai Vigili del Fuoco, che dice che un incendio stava impegnando i Vigili del Fuoco in via Chiesa Rossa 191, poi una serata di aggiornamenti, grazie anzi all'ufficio stampa dei Vigili del Fuoco che ci ha aggiornato passo passo, l'ufficio dei Vigili del Fuoco del provinciale di Milano che ci ha aggiornato passo passo, fino alle 23 di ieri sera, dove appunto l'aggiornamento diceva che l'incendio aveva coinvolto una ventina di camper parcheggiati nel deposito di via Chiesa Rossa 191, finalmente domato intorno appunto alle 11 di sera, e quindi poi subito sono iniziate anche le operazioni di bonifica che hanno impegnato le varie squadre dei Vigili del Fuoco tutta la notte, sappiamo che sono andate veramente lungo perché è stato complicato anche, poi c'erano delle bombole, insomma una situazione davvero difficile che per fortuna è rientrata poi questa mattina alla normalità, ma è stato veramente impressionante, delle immagini, erano veramente delle immagini difficili da non farsi affascinare anche da un certo punto di vista, veramente spettacolare l'incendio che è successo, per fortuna non ci sono stati feriti, è stata veramente tanta paura, questa colonna di fumo era visibile praticamente da ogni parte della città ed era veramente spettacolare vedere questa colonna che si alzava sul cielo di Milano. Adesso tutto a posto, anzi complimenti e grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno intorno appunto, dicevo, ieri sera intorno alle 23 finalmente domato questo grande e difficile incendio e sono riusciti appunto a far tornare nella notte poi la situazione alla normalità. Grazie ancora e allora andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qua sempre in diretta su Crystal Radio. Good Morning Milano, tanti gli ospiti che arriveranno oggi con noi e abbiamo una sorpresa che poi fra poco potrete sentire su Crystal Radio o vedere su Good Morning Milano. Blackout Baby K alle 7.46 minuti, pochi secondi prima di far entrare la nostra ospite che sarà una sorpresa per tutti. Io vi dico solo, ascoltate bene la prossima canzone che mettiamo perché c'è un... beh, chiamalo l'indizio, è dir poco, nel senso... Vabbè, io ve la faccio sentire e poi vediamo se vi ricordate di cosa stiamo parlando ma soprattutto è un uragano che è già entrato qui nella nostra redazione. Com'è, com'è, com'è che fa? Aspetta... It's such a joy to see... Ma voi avete mai avuto una regina in studio? Io ce l'ho, la regina di spot, Gisella Crozzo, buongiorno Gisella! Good Morning, buongiorno a tutti voi, ma che bello! Ma avete mai avuto una regina che canta e canta alle 7.49 del mattino? Ecco, diciamolo, diciamolo, così mi riscaldo la voce un po'. So che per voi cantanti farvi svegliare a quest'ora è difficile, ma vi cantare ancora di più, tu sei venuta qui mi ci sei per raccontare una delle storie più incredibili che abbia mai sentito è un pezzo della mia gioventù che ho qui di fianco a me, io me la ricordo questa canzone voi l'avete riconosciuta questa canzone? Avete capito con chi siamo qui a parlare? Gisella, la regina degli spot Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Ende e i telespettatori e i telespettatori, sì sì, perché ricordiamo appunto che ci potete vedere, ascoltare e poi riascoltare, ormai è un casino sta roba è molto bello, sì ovunque ti giri c'è qualcuno che dice ti ho sentito quando, ieri, oggi, domani la replica è sempre molto bella ovunque, 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 ovunque io sono veramente onorata di essere qui, grazie per l'invito insomma, questa qui è una nuova versione, giusto? un remake, remix, come vogliamo chiamare? è un remix e un remake, è la stessa cosa, ma remake è una nuova versione ma diciamo che l'abbiamo fatto in modo remix con DJ Maxwell ed è stato un bel regalo e l'abbiamo veramente voluto produrre per regalare questo trentennale di Gioe che è lo spot della Coppa del Nonno di Gioe di questa qui, per intenderci questo sei tu sono io nel 94 nel 94 andò in onda ma questo è stato l'inizio l'incononamento o il punto l'inizio l'inizio sì, la partenza trenta secondi poi grande successo della pubblicità hanno richiesto il nuovo diciamo la versione lunga ah, vedi che poi ha fatto licenze in giro per il mondo è andato su Radio DJ per un mese sulla Top Chart ah, vedi ed è nella compilation anche di Linus mi ricordo nel 95 è la prima compilation che fece degli spot è stato un brano che in quell'epoca lì degli anni 90 rappresentava proprio questa allegria ma sì questa voglia di iconicissima voglia di essere allegri, no? spensierati con questa giostra e per me era proprio un inizio diciamo questo pezzo mi ha un po' incoronato se vogliamo usiamo Regina Amica peraltro perché la corona ce l'hai di diritto ormai, no? diciamo che questo era una delle prime e poi magari racconteremo le altre perché poi infatti dicevo questo è l'inizio poi di una carriera che ti ha provato a fare delle canzoni che sono complicate proprio che sono veloci sono brevi devi esprimere tutto in quello sparo no? sì così deve essere sì e diciamo la pubblicità in quei trenta secondi devi mettere l'intensità di tutto quello che bisogna promuovere quindi deve essere orecchiabile deve essere gimmicky vuol dire molto slogan, no? molto proprio le parole, i suoni devono rimanere in testa come chi pulisce più di chancé clè avete capito chi abbiamo qui di fianco? avete capito? per esempio questi suoni queste orecchiabili cose melodie è rio casa mia a Monica detergente super profumata ah 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 e poi ci sarà la cosa interessante appunto è che noi pensiamo che poi questa qui è andata su tiktok alla grandissima ma sono fantastiche guarda che ecco la sfortuna diciamo di aver avuto tiktok trent'anni fa perché se no queste qui diventavano trend social non c'erano cioè sarebbero diventate subito trend però sai cosa mi dicono mi dicono che più gli anni passano più diventano ancora più magari importanti iconici come dici tu che diventano ancora più preziosi nella memoria della gente e quindi quando mettono un volto a queste pubblicità mi vedono dal vivo durante gli spettacoli con il big screen dietro con lo spot dietro io che li canto dal vivo è proprio mettere il volto con questa musica con questo jingle ma è lei e quindi sì è Gisella Cozzo ragazzi è proprio lei è proprio lei è proprio lei con tra parentesi delle squadre io ho visto su youtube si trova di tutto su di te Gisella ci sono tantissime interviste video e ho visto anche delle bellissime interviste che hai fatto tu con coloro che c'erano dietro a questi spot bravissimo tu hai fatto i tuoi compitini a lei gli faccio i compiti gli faccio i compiti da casa allora diciamo quando è arrivata Gisella in studio ma non hai niente davanti come foglie così no tranquilla eh ma perché faccio i compiti prima ma sei bravissima per quello sei bravissimo sei bravissimo quando arriva la regina uno si prepara scusa no è un piacere perché è bello raccontarsi in modo proprio come si fa e tu stai facendo un bellissimo lavoro ti ringrazio volevo dire di questa la mia vita in uno spot praticamente abbiamo fatto un fan mi ha proprio chiesto vogliamo fare le backstage di tutti gli spot e chi veramente c'è dietro e quindi ho chiamato tutti i miei compositori collaboratori facciamolo facciamolo e l'abbiamo fatto e poi anche su Joy la coppa del nonno con Luciano Ripamonti e Antonella Guzzi che sono i miei collaboratori e autori coautori di questo brano abbiamo fatto lì un bellissimo episodio su Joy e potete andare a vederlo su mio canale YouTube con tante belle interviste e la cosa che mi ha colpito è che lo immaginavo però magari uno diceva lo spot vuoi mettere il grande disco vuoi mettere la grande canzone ma ci sono dei professionisti dietro che sono pazzeschi il grande compositore che poi si presta o meglio è lo spot che lo va a cercare perché vuole la grande qualità devo dire una carrellata di compositori della creme della creme della pubblicità in advertising italiano quindi da Mario Saroglia a Mario Guarnera a Flavio Iba a Ferdinando Arnaud a Armando Testa a Franco Godi tantissimi che mi hanno voluto in questi anni come rappresentante della voce di tanti brands che sono onorata di aver rappresentato con la mia voce è una cosa bella che mi è successo anche con Yoko Ono che scelse la mia voce per Enel mi ricordo Power to the People per cantare il brano di John Lennon in questa pubblicità non Fabio Ranfi che dice siamo tutti uguali siamo tutti uguali come ha funzionato ti hanno telefonato ciao sono Yoko come funziona magari la casa di produzione il musicista insomma hanno fatto un casting di voce come si fa la mia è stata scelta sono stata veramente onorata e la pubblicità mi ha dato tantissimo perché io sono una cantautrice quindi scrivere canzoni scrivere pubblicità scrivere colonne sonore nella mia vita anche per tantissimi anche italiani americani è tutto un percorso di una carriera di un artista che ti può aiutare ad essere quello che si è oggi e tutte queste esperienze mi hanno fatto diventare quella che sono oggi sempre me stessa sempre molto focused di quello che si vuole fare e per progettare altri progetti ma questo volevo veramente farlo traguardo di 30 anni di gioia con questo remix e portarlo anche in giro in Italia sicuramente dopo lo riascoltiamo anche non si fa in radio questa cosa ma io la faccio mi interessa salve presidente che ci sta ascoltando il presidente che sta in radio buongiorno buongiorno good morning buongiorno good morning presidente adesso allora andiamo un attimino in pausa c'è il giornale radio ce lo ascoltiamo insieme stiamo qui io ti farò altre 800 milioni di domande così dopo aggiungo faccio l'upgrade ai compitini che ho fatto a casa va bene quindi state con noi seguiteci ci mangiamo una coppa del nonno magari dimmi che non ti piaceva ti prego dimmi che non l'hai mai mangiata in vita tua no 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 l'ho mangiata l'ho mangiata sarebbe stato il massimo preferisco nocciola però va bene infatti va bene ma quando hai fatto lo spot ti hanno dato un frigo pieno di coppa del nonno ma si frigo ripo ripieno neanche una come allora adesso chiamiamo adesso chiamiamo e chiediamo il il debito quanto hai già fatto non mi chiamano più basta basta torna anche quello il vintage what comes around goes around è vero è verissimo c'è gente che io ho visto cose che voi umani ho visto petizioni per far tornare il mottarello cioè quindi la gente la gente no ma c'è nel supermercato il jingle che non c'è infatti quindi quindi non si sa mai oh Gisella change.org una bella petizione per far tornare anche joy come io io così faremo ok ma guarda che ormai col marketing la gente si inventa le cose più assurde questo sarebbe anzi quasi normale per i tempi che corriamo Gisella Cozzo con noi la regina degli spot pubblicitari ancora qui con noi dopo il giornale radio dopo una piccola pausa sempre qui su crystal radio su 96.2 fm dub plus poi c'è l'app e poi se volete e adesso perché poi il problema è che alle 8 la gente dice no entra in ufficio vabbè dopo ci riascoltate c'è il podcast anche su spotify quindi potete rivederci e riascoltarci anche su spotify su youtube e sul nostro sito goodmorning.milano.it ed eccoci di nuovo qui in diretta su crystal radio goodmorning.milano Gisella allora Gisella Cozzo la regina degli spot è fantastico perché poi quando inizi a fare la lista non finisci più praticamente hai fatto un conto di quanti più o meno no perché tra Gingos Radio e Gingos Television per nazionale e internazionale sì sigle televisive colonne sonore sono tanti ed è bello essere diciamo aver fatto tante cose per ampliare anche il know how di questo mestiere perché sono tutti skills ma come funziona come funziona skills attrezzi del lavoro diciamolo come funziona come funziona io diciamo all'inizio mi chiamarono sai chi i fratelli la bionda ok te li ricordi Italo Dance one for me one for you loro facevano un sacco di pubblicità all'inizio e chiamarono anche tantissimi artisti e tanti hanno registrato anche presso il loro studio Logic Studios ma queste pubblicità erano veramente diventavano molto importanti per promuovere una brand all'inizio e facevano sì che fossero originali queste canzoni a volte mi chiamavano per fare anche dei cover dei cover tipo Kellogg's Belinda Carlisle ooh baby do you know what that's worth e quello era ma quella cosa lì appunto è una cosa che si usa spesso negli spot di rifare il pezzo famoso allora quando non ci sono i diritti è il copyright cercano di risparmiare perché le case l'edizione diciamo the publishing non danno il permesso quindi prendono una persona una cantante che fa un soundalike che è una cosa molto simile o anche una cover proprio io ne ho fatte tantissime ma infatti io ho pensato ne ho fatte tanti 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 alcuni sembrano praticamente l'originale quasi sì si cerca di avvicinare il più possibile lo fanno anche tutt'oggi perché non tutti danno i diritti e quindi io ne ho fatte tantissime negli anni è stato anche molto bello fare questi cover e rappresentare questi artisti attraverso la pubblicità e usavano moltissimo le canzoni edite già fatte famose ricantate insomma e quindi e quindi e quindi quindi Gisella allora ancora appunto a raccontarci a parlare di questi spot 30 anni 30 anni di gioia I feel good I feel fine dello spot della Coppa del Nonno andò in onda nel 94 e siamo qui nel 2024 a festeggiarlo con un nuovo remix che abbiamo già fatto sentire prima e con una tournée the joy 30th anniversary tour quindi va in tournée allora vi voglio sapere cosa potremmo cosa dobbiamo aspettarci da questa io ho paura quasi di saperlo devo dire la verità allora la prima è già andata a Falcomics a Falconara Marittima è uno show molto variegato con tutti i miei spot che canto dal vivo con la pubblicità dietro l'head wall con lo schermo dietro dove io canto le mie pubblicità dal vivo li faccio vedere li racconto un po' e poi canto le mie canzoni e ci sono anche i miei super a Joy Boys come li ha chiamato il mio grandissimo amico Alessio i ballerini che mi sono con me balliamo insieme ed è una coreografia è uno show molto secondo me allegro ecco vorrei portare tanta allegria e spensieratezza in questo show e stiamo facendo tantissimi cosplay festivals anche quindi il primo è andata a Falcomics la prossima è in Puglia in Puglia Mallfest la prima edizione io vi aspetto il 29 di giugno si ma aspetta tu hai buttato lì così come fai i comic i festival cosplay ma anche tu si sono entrato in questo mondo magico ma da quest'anno e sono felicissima qual è il tuo cosplay cavallo di battaglia no io fai Gisella Gisella la bella Gisella la bella Gisella la bella la regina degli spot com'è com'è infatti vedi la sorta com'è è questo io quando la prima volta che sono entrata a Falconara ho detto wow guardate tutti questi questi cosplayers guardate tutti gli istruatori che fanno i comics che disegnano che scrivono i libri questo fantasy world perché è un mondo bellissimo mi diverto un sacco e sono onoratissima di entrare in questo mondo per la prima volta il mio debutto è stato il 25 il 25 maggio a Falcomics a Falconara è stato bellissimo a fine giugno siamo a Mallfest poi a San Marino Comics siamo a Chiaveri in cosplay a Pescara insomma tantissimi di questi ma poi sono anche posso anche dirlo fresco 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 una data nuova il Festival Cinema Italiano a Patti in Sicilia fantastico ti vedi dei posti pazzeschi anche perché insomma uno più o dell'altro posti bellissime non hai capito parlo con Elisa la mia produzione non è che va al Festival di Grattosoglio al Festival della Bruschetta di Quattogiano ma la regina dove deve andare la regina dove vogliamo portarla infatti infatti no scherzo sono veramente onorata ricordami bene appunto come sarà composto per appunto lo spettacolo dicevi ci sono i miei spot no ci sono gli spot ci sono i miei ballerini questa volta non ho la band ma ho uno show veramente pieno di canzoni 80-90 delle mie regine le mie idole come Whitney Houston Diana Ross Donna Summer metto tutti questi dance della dance music anni 90 le mie canzoni di spot tv i miei ballerini è un show packed molto pieno pieno e allegro è questo che voglio portare come ti ho detto il 30 anni di joy 30 anni di noi perché siete stati voi che mi avete supportato con la mia musica la mia la mia presenza qui in Italia il popolo italiano mi ha veramente abbracciato quindi sono super felice e onorata di essere qui e andare avanti con la mia carriera con gli spot e lo show spot show in tutti questi festivals cosplay e in giro per l'Italia con la tournée 30th anniversary joy 30th anniversary arrivano anche i whatsapp ovviamente che ti salutano e si complimentano con te nello ci dice salutaci Gisella grazie joy indimenticabile però posso dire joy effettivamente si è quella più iconica però poi quando ti canta anche le altre dici ah anche quella sensazione unica che gusto il feeling che c'è in una coca cola you can't beat the real thing perché questo anche in inglese l'ho fatto capite che ha fatto lo spot per cui io poi ho perso la trebisonda io sono un collezionista di lattini coca cola ma dov'è la collection che ti faccio lo spot adesso ti faccio una foto davanti alla mia collezione di lattini e poi vabbè ho fatto tantissimi mountain high mountain of love levissima pensate e poi poste italiane è una cosa che mi sconvolge no perché poi mi devo ricordare devo avere la lista perché mi dimentico non è che lo faccia apposta no te li ricordi e poi vabbè adesso fa caldo ma di solito io mi faccio una bella cioccolata calda when it's cold and windy and it's cold outside there's a funny feeling that you just can't hide c'era Luca no? che imitava tutta la gente in casa dai facciamoci una cioccolata calda ma non era la stessa dove poi c'era quello che faceva il cuoricino sulla finestra perché c'era la neve bravo quello è è quello lì sono proprio vecchie ragazzi sono vecchie è quello lì è quello lì ma in vicinale come veramente penso anche voi a casa mentre Gisella canta in testa bam ti parte lo spot c'è buon immagini le cose le sensazioni è molto bella tu infila al supermercato ti sblocco un ricordo come dicono i miei tutti i miei tiktok ti sblocco un ricordo tu ne hai da sbloccare qua cioè tu sei veramente una scassinatrice di ricordi qua li facciamo saltare ci scrivi anche e lo conosci benissimo il nostro collega Ambrogio 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 how are you darling and thank you ecco che dice grande Gisella la personificazione dello spot della gioia infatti tu sei la regina di spot ma sei in un spot tu per la gioia quello sicuro è cerco di portare sano portatore sano di gioia un vulcano di positività è vero ragazzi sono le 8 e 20 del mattino cioè dalle 7 che qua ma mi hai dato un caffè che proprio dir così che poi mi arriva la digos a vedere cosa metto nel caffè cosa mi hai messo infatti cosa mi hai messo nel caffè che ti prendi non era già cosa mi hai messo nel caffè non mi ricordo c'era una canzone devo fare un gingo ricordiamo bene però appunto quando parte il tour già partito ok il 25 maggio è la prima l'abbiamo già fatta mall fest siamo al 29 di giugno poi siamo c'è in regia qualcuno che mi dice San Marino a fine sett... no San Marino a fine agosto e poi abbiamo Chiavari in cosplay e poi Pescara dobbiamo ancora definire ma siamo lì e poi siamo al festival del cinema italiano fresca fresca il 2 di luglio quindi tutte le mie date ci saranno nel mio sito i miei social network le coordinate Instagram Gisella Cozzo official Gisella Cozzo official page su Facebook sono anche su TikTok mi state facendo tanto tantissima soddisfazione su TikTok e cos'altro Gisella qual è la... questi social che ci devo essere perché voi ci siete vabbè sì quando vai appunto nelle varie radio perché vi sono fatto ma stiamo facendo veramente tante interviste stiamo raccontando tutto ti facciamo quasi sempre tutte le stesse domande qual è la domanda che non ti facciamo mai che però dici ma piacerebbe che mi chiedessero quella roba lì c'è qualcosa che ci dimentichiamo? perché ancora canto? ah ecco vedi 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 perché io ho un grandissimo rispetto per la musica per quello che ho fatto dagli inizi per quello che mi deve ancora succedere ho tanta passione e amore per questa grandissima musica e l'arte e sono onorata di essere qui dopo aver vinto un concorso nazionale di talent a 16 anni 40 anni fa fate i conti quindi I'm very very honored onorata di essere qui e festeggiare il trentesimo anniversario di Joy Joy I feel good I feel fine because I know my loving heart is all you need it's such a joy to see e questa fa parte della coreografia joy to see perché giustamente c'erano anche i ballerini quindi c'era anche la coreografia e chi si sa mai che al punto con il tiktok magari riusciamo a far diventare un trend esatto in più diciamo appunto la dance la musica che tu ami tantissimo ho fatto anche tanta dance negli anni 90 sta tornando o sbaglio? sta tornando alla grande tantissimi giovani hanno anche mettono come riferimento diciamo i producers usano moltissimo questi mashups di diversi artisti anni 90 e poi usano lo stile anni 90 i synthesizers tutti le diciamo riferimenti anni 90 li usano nelle loro produzioni perché se tu li hai già sentiti certe melodie e certi suoni è già venduto il brano è già un grande successo e questo è il segreto credo oggigiorno noi sentiamo tutti questi brani italiani internazionali che sembrano già di aver sentito visto e sentito ma sono già successi eh sì perché hanno avuto anche loro successi a loro volta no? e quindi adesso il successo per i prossimi 30 anni di Gisella quale sarà? eh beh io ho tantissimi progetti ancora nel cassetto dai accortacelo a qualcuno dai com'è che aspetta Elisa com'è che dice quella borsa che abbiamo appesa là quella borsa le idee nel cassetto muoiono di solitudine quindi no no io li sto piano piano uscendo fuori perché c'è un bellissimo progetto quest'anno in Australia posso dire questo vai no no nella mia città di Melbourne c'è un bellissimo progetto non posso svelare niente ma è bellissimo è una cosa per il futuro per il futuro per la musica sì per la musica italiana per portare la cultura in Australia a Melbourne in particolare quest'anno per la per la lingua italiana e quindi è un progetto che ha a che fare con la lingua italiana con la musica italiana ed è molto bello per me poter ritornare in Australia con un bellissimo messaggio per divulgare la cultura italiana questo è sempre stato il mio sogno mio papà l'ha fatto anche lui con la radio lui ha fondato una radio italiana negli anni 60 ha fatto tantissime cose vorrei portare avanti questa legacy quindi essere un vulcano è un'eredità di famiglia anche mia mamma che fa l'attrice ed è un volto di una pubblicità anche mio papà era un volto della pubblicità dei mobili io derivo da due star quindi io ho un passato di musica di pubblicità e c'è un passato di voglia di fare e passione per l'arte e questo anche le mie sorelle cantano tutti ma io ho fatto quella di professione quella di più diciamo di professione ma in musica in famiglia respiravamo veramente musica fish and chips spiegheri dico io fish and chips e musica pasta asciutta fish and chips e musica questo era diciamo i miei ingredienti ecco Gisella dove ho sbagliato io mi sono fermato a spaghetti ho fatto fish and chips e spaghetti e non sono andato avanti fish and chips ragazzi no adoro mi sono fermato lì primo posto che vado quando vado a Melbourne sta in chiuda per mangiare i miei fish and chips e anche a Calton c'è un bellissimo posto ti leggo un whatsapp che è arrivato da Danello che secondo me spiega benissimo e su cui poi potremmo salutarci a me è fondamentale ti dice Nello se penso che ci sono cantanti che vivono di autotune e poi c'è Gisella che alle 8 del mattino a freddo canta così tanta stima lascio a voi i commenti grazie guarda per me è normale come avere se non canto non ho un braccio non ho una mano quindi per me è naturale tutto magari c'è qualcosa di imperfezione alle 8 di mattina ma ci può stare ma non è che mi importa tanto ed essere se stessi sempre ragazzi credere in quello che si vuole fare un'altra cosa che mi ha sconvolto è che Gisella si sente un po' il tuo accento australiano un po' italiano australiano quando canta scompare completamente l'accento è uguale italiano o inglese? no con l'inglese con l'inglese anzi lo dico meglio quando canti in italiano scompare completamente l'accento inglese quando canti in inglese sembra che si arriva cioè vivi ancora là sì sì perché io vivo ancora là perché faccio un po' lì un po' qua però l'italianità in me sono stata cresciuta con la lingua italiana perché mia mamma mi portava anche la maestra italiana da 12 anni quindi era proprio una cosa un must che noi figli dovevamo conoscere bene l'italiano quindi sono stata super fortunata per questo perché mia mamma voleva proprio divulgare e continuare la lingua italiana anche se c'era il dialetto ma poi l'italiano era insegnato a scuola anche anche perché ci sono degli spot che erano quasi veramente degli scioglilingua a volte ho fatto anche una cosa su Virgilio che era in islandese slang slang slingling slang non mi ricordo che c'era un coach dall'altra parte della regia che mi faceva da coach slang 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 si trova nel mio sito ragazzi ma non riesco a ripeterlo adesso in islandese in islandese è Virginio mi ricordo Virgilio la telefonia o qualche quello era pazzesco poi c'erano altre cose di Bjork ho fatto una cover per Algida mi ricordo che era la concorrenza della coppa vabbè da Zamera è democratica comunque io ragazzi ho cantato anche in italiano quindi andate a vedere il mio spotify ci sono brani anche internazionali e italiani dove ho fatto questo album double che c'erano tutte le due versioni in italiano e in inglese dei classici italiani quindi quando all'estero magari canto più in italiano in australia però in inglese diciamo è stata la mia fortuna qui poter cantare dance e le mie pubblicità che la maggior parte sono tutte in inglese e insomma allora Gisella Gisella Cozzo questa qui con noi questa mattina grazie grazie a voi a Crystal Radio good morning Milano thank you so much grazie grazie mille è stato molto molto bello essere qui con voi e festeggiare Joy Joy 30 anni di Joy che appunto ci andiamo a riascoltare adesso nel finale appunto di questa tua presenza qui in studio che lascerà sicuramente stracci perché è un terremoto un vulcano bellissimo è stato bellissimo grazie a tutti voi questa mattina e vedete io di solito devo essere la sveglia io sono la sveglia di quelli che ci ascoltano però nessuno pensa a chi sveglia a me questa mattina per fortuna è arrivata Gisella quindi grazie mille per la mia sveglia del morning di questa mattina grazie a te grazie mille Gisella grazie anche a tutti voi seguitela sui social sul sito insomma accetto tutto e seguitela anche in tour appunto se siete in giro per l'Italia potete trovarla e quindi cantare insieme a lei Joy dopo 30 anni anzi Joy I feel good I feel fine la versione appunto la nuova versione del trentennale di questo storico brano e non la gay dopo il vucano l'uragano Gisella Cozzo che è venuta qui in studio a raccontarci questo trentennale della canzone Joy la pubblicità della coppa del nonno ma quanti di noi l'hanno ascoltata potremmo nella mia famiglia la coppa del nonno era proprio la coppa del nonno mio nonno impazziva per quel gelato quindi era proprio anzi devo dire che da quando ero bambino pensavo l'avessero chiamata così perché piacesse a mio nonno dopo ho capito che invece era così per tutti però in effetti lui impazziva e quindi io pensavo l'avessero chiamata così perché non sapevo leggere quindi non sapevo che il suo paccio ha chiamato il nonno quindi pensavo che la chiamassero così nella mia famiglia poi invece ho scoperto essere veramente il nome di quel mitico gelato che appunto ha visto trent'anni fa nel suo spot la voce di Gisella Cozzo raccontarlo con questa Joy che è fantastico qualcosa veramente di micidiale che ancora oggi ci fa tornare alla mente a quei giorni oggi è il 30 di maggio e voglio fare gli auguri a un personaggio televisivo che io reputo uno dei miei maestri ma anche che mai però potrò raggiungere le sue vette sto parlando di Piero Chiambretti io ho adorato e adoro alla follia Piero Chiambretti mi ricordo quando sulla 7 faceva la trasmissione Marchetta ad esempio nel pubblico una sera sì e l'altra pure una personaggio davvero eclatante secondo me uno che si è inventato un po' una televisione che adesso in molti fanno e che insomma a volte ci dimentichiamo però di ringraziare Piero Chiambretti ve lo ricordate quando era alla cabina del telefono c'era una roba dove faceva il postino che portava le lettere ai vari politici ai vari personaggi spettacolo insomma Piero Chiambretti oggi 68 anni buon compleanno al Pierino come lo chiamano tanti ma Piero Chiambretti che insomma non è Pierino ma anzi è un grande della televisione italiana Piero Chiambretti tanti auguri 68 anni auguri da Good Morning Milano erano gli Aerosmith con Ragdoll alle 8.43 minuti oggi è giovedì e direte oh ma è giovedì noi parliamo di teatro parliamo con Tamara Malle oggi cosa avete fatto l'avete tirata via perché è venuta la regina degli spot no 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 è qui con noi eccola qui sorridente regia stacala che sta facendo un sorriso bellissimo vogliamo anche vederla sorridente così illuminante tu sei illuminante della nostra giornata è un po' illuminata diciamo stamattina ho trovato questa luce diversa diciamo così che a casa mia c'ha tre tre ponti di luci brava ma beh sei eco sei eco compatibile sei a risparmio energetico va bene sono molto a risparmio energetico sì sicuramente buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio di Good Morning Milano allora Fabio oggi dica 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 allora oggi pensando a te ho scelto davvero tre teatri molto anzi due teatri in uno spazio molto diversi molto lontani tra loro ok mi sono informata anche come raggiungervi bravissima allora partiamo subito da uno che di cui un teatro di cui parliamo spesso ma che in realtà propone anche in questo periodo quindi fine maggio è comunque un periodo un po' più tranquillo diciamo rispetto alla produzione teatrale solita ma il teatro del Fupuccini in questo momento porta comunque in scena davvero molti lavori e molte compagnie interessantissime in questo caso c'è una compagnia al teatro del Fupuccini fino a domenica che io seguo dal 2012 quindi in realtà proprio una compagnia che mi accompagna quando si dice compagnia appunto in quel caso esatto bravissimo ed è la compagnia OIS è una compagnia che si è formata nel 2008 se non mi sbaglio 2008-2009 è una compagnia che è composta da 10 attori dell'Accademia dei Filodrammatici e poi negli anni chiaramente la compagnia è cambiata perché alcuni elementi all'interno della compagnia sono cambiati come è giusto che sia perché nel corso del tempo tutto cambia e adesso sportano in scena loro sono molto legati ai classici hanno lavorato moltissimo su Chekhov e in questo caso si sono confrontati con un grande classico che in qualche modo è presente nelle nostre vite nel periodo scolastico cioè la coscienza di Zeno la coscienza di Zeno è appunto questo testo che molti di noi incontrano alle superiori che non sempre viene visto in maniera diciamo così molto entusiasta ah perché qualcuno lo vede entusiasta esiste qualcuno che in quel periodo l'ha visto in maniera entusiasta appunto puoi togliere quasi mai mai viene visto mai vabbè magari qualcuno invece dice l'ha letto e gli è piaciuto io non metto in dubbio devo dire che io ammetto che l'ho trovato non particolarmente diciamo così vicino alle mie cordie ma ma invece si può ma invece la compagnia Oies entra dentro questo romanzo e appunto poi porta a teatro l'incoscienza di Zeno cioè propone attraverso questa loro lettura una visione del romanzo ma soprattutto dei personaggi del romanzo e quindi di Zeno di Ada di Guido cioè di tutti i personaggi Agostina di tutti i personaggi che ruotano intorno a Zeno dello psicanalista è una versione davvero molto contemporanea e devo dire che Fabio Zulli che interpreta Zeno riesce a portare proprio le caratteristiche umane di questo personaggio quindi rendendolo molto vicino a chi sta guardando lo spettacolo quindi con quelle caratteristiche umane legate all'innettitudine legate alla incapacità di prendere una posizione di riconoscere davvero qual è il senso dell'amore o della propria presenza nel mondo quindi vi devo dire che questa lettura con la regia di Umberto Terruso poi in scena ci sono alcuni degli attori della compagnia Francesco Meola Daniele Crasti poi ci sono Francesca Gemma Vivi Castiglioni Dario Merlini veramente c'è un cast che è riuscito a cogliere gli aspetti più umani di questo romanzo a portarli in scena e devo dire che io ieri sera sono andata a vederlo e c'era una platea di ragazzi e ragazze di scuole superiori ed erano assolutamente conquistati da questa versione quindi devo dire che anche un pubblico giovane io consiglio anche alle famiglie magari di portare i loro ragazzi le loro ragazze a vedere questo spettacolo che sicuramente appunto è un testo che incontreranno nel loro percorso scolastico e che devo dire conquista l'attenzione e la curiosità cioè alla fine erano tutti volevano tutti intervenire tra loro per confrontarsi sulla versione che avevano visto dell'incoscienza oh bello vedi come si può ribaltare subito adesso abbiamo qualcuno che dirà sai che quando andavo al superiore mi hanno presentato la roba che invece non era pallosa meno male esatto bravissimo infatti ho sentito dei ragazzi che dicevano ma vedi che il romanzo può anche non essere palloso effettivamente questa versione era secondo me molto bello bello concreta e molto vivace Elfo Puccini fino a domenica Elfo Puccini abbiamo detto Corso Buenos Aires Metropolitana Lima Metropolitana Porta Venezia ormai siamo lì tutte le settimane quindi ormai cosa non conosciamo esatto ma mi sa che ci torneremo perché hanno veramente anche una stagione diciamo così estiva adesso dove ci porti postiamo al teatro Outoff siamo in via Mac Mahon quindi Metropolitana 5 Cenizio è un teatro di cui non abbiamo mai parlato ma in realtà appunto si trova in una zona un po' defilata diciamo così di Milano quindi non in zona centrale ma appunto facilmente raggiungibile peraltro insomma si può anche parcheggiare in quella zona e ve ne parlo perché all'interno della rassegna prendiamo prendiamo posizione c'è uno spettacolo che si chiama Inegalité Olimp e la rivoluzione negata stiamo parlando di uno spettacolo della compagnia Ensemble Teatro una compagnia relativamente giovane perché i ragazzi si sono diplomati alla Paolo Grassi qualche anno fa quindi insomma sono ancora davvero giovane anegraficamente sono in scena da stasera fino al 2 giugno Inegalité Olimp e la rivoluzione negata è la storia di Olimp vi dico subito il cognome Olimp de Gouges che è una rivoluzionaria nel periodo della rivoluzione francese che ha detto se la donna ha il diritto di salire sul patibolo deve avere il diritto di salire sulla tribuna quindi significa che in un periodo in cui la donna veniva appunto non presa in considerazione per la parola lei invece si batte affinché la propria parola come donna potesse essere presa in considerazione e rispettata anche in un periodo in cui parlare significava finire la ghigliottina quindi una donna rivoluzionaria molto coraggiosa che per esempio è rimasta vedova molto giovane e poi non si è più sposata per evitare che il matrimonio diventasse la tomba della fiducia e dell'amore quindi una donna rivoluzionaria molto per i suoi tempi perché a quel tempo il matrimonio per una donna era l'unica possibilità pensabile nemmeno due anni dopo lei porta la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina quindi veramente una grande rivoluzionaria loro hanno voluto portare le parole di questa rivoluzionaria in scena attraverso il testo di Giulia Trivero e in scena ci sono Giulia Mato e Gabriele Anzaldi con la regia di Andrea Piazza che sono appunto fanno parte della compagnia Ensemble Teatro quindi devo dirvi che poi loro lavorano molto sul suono su una performance diciamo così in scena quindi una visione molto anche moderna contemporanea della narrazione classica diciamo così in monologo quindi una rivisitazione abbastanza nuova teatro out of metropolitana 5 cenizio o col tram 14 12 c'è proprio la fermata del tram davanti sì esatto si può raggiungere facilmente in un quartiere che vede tantissimi teatri intorno perché c'è il teatro della memoria praticamente nella via di fianco il teatro guanella in fondo a destra quindi c'è veramente una roba nonostante sia defilato diciamo dal centro della città invece ne ha tante abbiamo pochissimi minuti Tami l'ultimo appuntamento di oggi dove ci vuoi portare allora sono velocissima perché vi dico che dal 4 giugno inizia una rassegna un festival che si chiama da vicino a nessuno è normale di cui parleremo più avanti si trova nella zona dell'ex ospedale Palopini quindi siamo in zona Affori e ci sarà una rassegna che appunto inizia il 4 giugno fino al 4 luglio con tantissimi spettacoli tra cui uno spettacolo della compagnia Fanny Alexander Maternità di cui parleremo poi prossimamente festival pazzesco che vi invitiamo ad andare a vedere perché davvero ogni anno c'è ed è sempre meglio quindi si aggiorna sempre di più sempre al passo coi tempi in un luogo pazzesco bellissimo bellissimo per l'altro quest'anno faranno anche degli approfondimenti su Basaglia perché c'è il centenario di Basaglia e quindi poi essendo un ex ospedale psichiatrico loro appunto sono molto attenti a tutte le tematiche legate alla salute mentale Beh Tavara allora grazie mille davvero di tutti i tuoi aggiornamenti teatrali continueremo continueremo va bene dai allora grazie mille davvero Tamara e alla settimana prossima allora buona settimana ciao Tamara grazie ciao 8 e 54 minuti ancora qui per salutarci per darci appuntamento a domani con Good Morning Milano giornata piena di ospiti piena di appuntamenti anche per i prossimi giorni grazie ancora Tamara Malleo per tutte le sue indicazioni per far diventare il teatro la nostra abitudine l'abitudine del teatro e dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa Ambrogio che ci ha dato prima un whatsapp proprio per ricordare anche il compleanno i 68 anni di Piero Chiambretti che oggi appunto compie gli anni con dicendo su Rai 3 Piero Chiambretti con divano in piazza grandioso e non è solo Piero Chiambretti che fa gli anni quest'oggi li fa anche la mia amica Silvia e quindi tanti auguri alla mia amica Silvia che fa gli anni proprio quest'oggi e quindi tanti tanti auguri è la prima del mio gruppo a fare gli anni credo durante l'anno nel senso del mio anno del mio anno di nascita appuntamento a domani domani è venerdì thanks god tomorrow is friday noi oggi invece ci salutiamo per questo giovedì 30 maggio grazie a tutti per averci ascoltato grazie alla compagnia a domani ciao ciao ciao